Alion Dojo, con il suo cuore, Fra Rai! La maglietta, Giampi! Ragazzi! Ragazzi, si sta spogliando! Tra Jiu Jitsu, il San Pedro Jiu Jitsu italiano, in virtù della sua grandissima professore per la pesca, Casa Mikiela, John Pollo! Ragazzi! 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 Grazie. 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 Abbiamo un cento e un paio stanotte. Grazie. E bravo quanto brutto comunque, è sopporto. Grazie. Grazie. Grazie.